Il comune di Arezzo potrebbe ben presto far ripartire numerosi cantieri previsti che dipendevano dai fondi del cosiddetto bando periferie. Fondi che erano stati congelati dal nuovo governo e che ora sembrano ripiovere su Arezzo. È la senatrice assessore Tiziana Nisini a lanciare su Facebook la buona notizia. Bando periferie, mantenuta la parola data. Oggi nella conferenza unificata a Stato-Regioni è stato raggiunto l'accordo sul programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. Nella legge di bilancio saranno inserite disposizioni grazie alle quali i comuni potranno beneficiare delle risorse previste già dal 2019 in base a spese sostenute e documentate. Orgogliosa, prosegue la Nisini, di essere tra i firmatari della mozione che chiedeva al governo di dare seguito agli impegni assunti dal presidente del Consiglio dei Ministri. Anche questa volta dimostriamo che siamo il governo dei fatti e che abbiamo trovato una soluzione. Anche ad Arezzo i nostri progetti diventeranno realtà. Dalla rottatoria di via Fiorentina, il raddoppio del baldaccio, dai giardini del Porcinaia, la riqualificazione della stazione di Arezzo e molti altri interventi che, se i fondi verranno davvero inseriti nella legge di bilancio, potranno partire nel 2019, sperando che anche in questo caso non si inserisca una manina a cambiare le carte.